buongiorno buongiorno ben ritrovati sono le 7 del mattino di sabato 28 dicembre questa è la rassegna stampa di omnibus news rassegna stampa che parte ancora da dimissioni diciamo meglio dai cascami dagli effetti ecco forse più corretta ancora dagli effetti delle dimissioni del ministro fioramonti effetti nel movimento 5 stelle forse anche nel governo questo lo vedremo del resto oggi alle 11 è annunciata la conferenza stampa tradizionale di fine anno del presidente del consiglio conte che noi manderemo anche in diretta quindi se siete interessati ve la potete seguire e cercheremo di capire insomma quali saranno gli indirizzi che verranno dati dal presidente conto e nel frattempo molta maretta all'interno del movimento 5 stelle e quindi di conseguenza anche in qualche modo nella maggioranza partiamo quindi dal correre della sera che così ci descrive questa situazione con questo titolo la resa dei conti nei 5 stelle e dimissioni del ministro dell'istruzione con l'ira di di maio che però dice bisogna rilanciare appunto l'azione dell'esecutivo è il premier che si richiama a una generica richiesta di stabilità e dopodiché ci sono per l'appunto gli stracci che volano il caso rimborsi fioramonti dice che non c'è trasparenza buffagni stefano buffagni che è uno degli esponenti diciamo storici del movimento 5 stelle lo attacca e dice lasci il movimento in tutto questo pierluigi battista scrive un editoriale interessante la scuola cenerentola notando come in realtà per l'appunto un tema che dovrebbe essere centrale cioè quello dell'istruzione sia stato dibattuto appena per qualche ora nel momento del dimissionio del ministro e poi il rischio è che ritorni nel dimenticatoio altra notizia che troviamo sulla prima pagina del corriere della sera la bolletta della luce bolletta della luce che costerà meno si risparmierà il 5 4 per cento mentre invece c'è un aumento veramente impercettibile del gas 0 8 per cento e poi qualche novità invece sulla vicenda della popolare di bari una girandola di ville le mosse degli jacobini jacobini sapete proprietari e poi presidente amministratori delegati della banca avevano diciamo così messo in sette immobili i loro fondi a centro pagina le lacrime per gaia e camilla queste stragi si possono fermare ieri i funerali delle due ragazze investite lo scorso 21 dicembre a roma la repubblica eccola qua vedete sceglie di tenerlo molto alto il taglio del funerale delle due giovani con questo bell'articolo di concita del gregorio gaia camilla pietro i nostri ragazzi appesi ad un filo mentre in realtà eccolo qua vedete sì l'articolo il titolo di politica riguarda ed è una sorta di appello non virgolettato ovviamente del premier conte non è tempo di dividerci perché perché ha fatto sapere il presidente del consiglio di non essere affatto d'accordo con la nascita di possibili gruppi parlamentari in suo nome così come era stato in qualche modo fatto lasciato intendere proprio dal ministro fioramonti dicendo qualsiasi iniziativa mi destabilizzerebbe oggi per l'appunto la conferenza stampa di fine anno e anche qui si segnala la spaccatura del movimento 5 stelle per i rimborsi del movimento ci sono novità novità interessanti che riguardano il decreto sicurezza di salvini i primi colpi in particolare non può essere retrodattato questo decreto e ci sono anche novità su mimmo lucano sindaco calabrese per il quale ci sarebbero nuove indagini in corso le vedremo fra un momento intanto andiamoci a vedere anche la prima pagina della stampa che preferisce fare il titolo sulla prescrizione ieri c'è stata la conferenza stampa del partito democratico per presentare il loro progetto di legge prescrizione per salvare conte il pd ceda alla riforma dei 5 stelle questo è il titolo che uno non si aspetterebbe e però appunto invece è così secondo l'interpretazione data dalla stampa nuova proposta dei dem che però ecco la spiegata rifiutano i voti dell'opposizione e adesso sperano nella consulta quindi vedremo insomma dove si arriverà due prime pagine di due giornali molto caratterizzati politicamente uno è libero che attacca pesantemente il movimento di grillo che dice si sbriciola polvere di 5 stelle e da addirittura i numeri di quelli che sarebbero disposti a seguire l'ex ministro il fuggi fuggi in dieci lo seguirebbero anche se poi abbiamo visto appunto conte declinare l'idea di un partito che lo appoggi a centro pagina una rivendicazione di orgoglio femminile e femminista a destra la destra è più femmina della sinistra donne che hanno potere senza bisogno di quaterosa e infine ormai siamo in pubblicità eccolo qua vedete il giornale il titolo lo fa proprio su quell'accenno che avevamo già visto sulla stampa sulla repubblica toghe scatenate quindi è evidente l'accento critico spinelli e immigrati è l'italia dei giudici via libera la marijuana medici in rivolta il tar contro salvini ridà la protezione a tutti e noi invece adesso ci fermiamo c'è la pubblicità e poi torniamo alle 7 11 riprende la nostra rassegna stampa l'articolo che vi propongo da leggere sul caso fioramonte conti eccetera eccetera e quello firmato da carmelo lo papa a pagina 3 della repubblica che bene ci riassume tutti i temi eccolo qua le mosse della maggioranza scrive lo papa e il premier blocca la nascita dei gruppi contiani mettono al rischio il governo non solo dice ancora il presidente del consiglio non vuole alimentare i sospetti di di maio bastano i quattro partiti che già mi sostengono e sostiene ancora questo articolo per il leader del movimento 5 stelle ora è difficile indicare un nome per l'istruzione insomma nonostante i tempi siano abbastanza stretti almeno a parole così sia stato annunciato la rosa è molto ampia e non sarà facile sostiene l'articolo di repubblica decidere immediatamente il dimissionario e poi ci sono per l'appunto anche perché come vedete dice il successore al ministro deve essere scelto dai cinque stelle che però sono in preda a una balcanizzazione interna termine che si usa quando quando si vuole significare una guerra agli uni contro l'altro è una dispersione totale e vi segnalo anche l'intervista che viene fatta a mario giarrusso senatore storico del movimento 5 stelle peraltro uno di quelli accusati ieri da paragone di non aver versato le quote dovute che sul collega di missionario dice è una delle nomine sbagliate di di maio colpendo in questo modo sia fioramonti che dice non è mai stato un attivista e così anche la politica di di maio la leadership di di maio che già russo ha sempre contestato e a maggior ragione contesta in questo caso dicendo è stato lui a portarlo dentro segnale per l'appunto di questa difficoltà nei rapporti anche all'interno del movimento 5 stelle chi sono i candidati eccoli qua il correre della sera ce li ripresenta dalla sottosegretaria all'istruzione sempre del movimento 5 stelle lucia azzolina a nicola morra senatore attualmente presidente della commissione antimafia così scrive il corriere che però appunto sottolinea come azzolina sia in pole position ma spunti anche l'idea di un tecnico probabilmente in seguito a quella balcanizzazione di cui ci parlava repubblica mentre per verderami eccola qua la strategia dei rinvii l'obiettivo di far slittare anche il voto su salvini perché sapete che c'è anche questa richiesta della giunta per le immunità il 20 di gennaio e è un'altra mina messa diciamo così sul cammino del governo salvini e i suoi amici si illudono se a una settimana dalle regionali in emilia romagna e calabria pensano di sfruttare quell'appuntamento per trasformarlo scrive ancora il corriere della sera in una tribuna elettorale a favore del centrodestra è una voce raccolta appunto da verderami che però ci segnala insomma la situazione la verità poi in questo articolo che troviamo firmato da claudio antonelli a pagina 5 invece sottolinea che quello che definisce un governicchio giallorosso è comunque solido per quale motivo perché restano ben 307 manager da nominare e sarebbero questi la vera colla dei giallorossi entro fine marzo dice si decide la sorte delle grandi partecipate quotate che spostano davvero il potere e mette giusto per spiegarcelo meglio questo questo schema devo dire abbastanza dettagliato per l'appunto di quelle che sono le varie posizioni e che secondo diciamo la malignità della verità sarebbero il vero collante invece il fatto quotidiano che ha sempre avuto una grande passione per i temi diciamo così legati alla giustizia parla della vicenda benetton perché anche quella questione delle concessioni è una tema che rischia di destabilizzare un po il governo ma poi in realtà all'interno ci racconta della prescrizione eccola qua e attacca in qualche modo la conferenza stampa fatta ieri dal partito democratico e lo fa con questo titolo vedete il pd sfida buona fede riecco la prescrizione che piace a bibi come sapete è il modo che ha scelto il fatto quotidiano di chiamare berlusconi additandolo come evidentemente un esempio da non seguire però su questo tema io vi devo segnalare anche eccolo qua la pagina 4 della repubblica che riporta le dichiarazioni del ministro che dice no ma non si deve tornare indietro andiamo avanti e però invece l'alto là eccolo qua molto interessante di gennaro migliore e lo ricordate è passato dal pd a italia viva è stato sottosegretario alla giustizia con il ministro orlando e dice l'idea dei dem quindi la proposta dei democratici di in qualche modo mitigare la prescrizione non deve finire nel nulla come accaduto allo ius soli ovvero la legge sulla cittadinanza ai figli degli stranieri nati in italia e della quale però poi non se ne è fatto più niente e l'avvertimento che manda migliore è esattamente questo dopodiché sempre su questo tema che rischia di essere veramente insomma un tema caldissimo scrive anche francesco grignetti sulla stampa in questo retroscena e dice poi ci penserà la consulta la strategia attendista dei dem insomma la tentazione di affidare diciamo così a una serie di sentenze la risoluzione del caso perché l'assenza di prescrizione sostanzialmente viene considerata anticostituzionale e quindi gli avvocati troveranno il modo di arrivare alla corte costituzionale la mossa potrebbe anche favorire un dietro fronte pentastellato il confronto decisivo ci dice la stampa avverrà il prossimo 7 di gennaio vedremo che cosa succederà quando ci sarà il vertice di governo viene fra l'altro nel frattempo intervistato ennio amodio noto avvocato penale e professore merito di procedura penale che dice la norma non può essere punitiva si rischia di tornare al maglio evo insomma davvero questo blocco della prescrizione un disastro passiamo a tutt'altri temi invece con il sole 24 ore che ci dà una serie di notizie interessanti per chi gioca in borsa e per chi investe molto importante sicuramente quella dell'euforia sui mercati il 2019 hanno record per le gorse ma per chi si preoccupa di occupazione impiego eccola qua la notizia molto interessante lavoro 10 bonus per incentivare le assunzioni sono quelle che riguardano soprattutto i contratti di apprendistato e nella manovra magari se ne è parlato di meno perché si è parlato di più delle tasse della sugar tax ma ci sono anche questi aspetti interessanti per esempio lo sgravo contributivo al 100 per cento di tre anni per gli apprendisti come sicuramente molto interessante da seguire anche quest'altra notizia eccola qua che riguarda lo studio di una quota 100 bis ma solo se contributiva perché come sapete quando quota 100 è stata istituita si era già detto che sarebbe durata solo fino al 2021 e invece evidentemente c'è qualche si sta diciamo approntando un tavolo per discutere di altro il manifesto fa un titolo molto diverso da tutti gli altri eccolo qua reato di solidarietà di che cosa si tratta un caso avvenuto a prato e che anche questo ha a che vedere con i decreti sicurezza avete visto prima il giornale ci raccontava no di come li stiano smontando una serie di sentenze invece questa storia racconta di due diciottenni di prato multate per il decreto sicurezza di salvini perché avevano manifestato con gli operai in lotta nel picchetto che va avanti da mesi alla tintoria superlativa e l'accusa era quella di intralcio al traffico ricorso e appello sottoscritti da tantissimi studenti che dicono ora cambiate la legge vi faccio vedere anche la prima pagina di avvenire è l'unico quotidiano che mette così in alto così in evidenza il massacro di 11 cristiani avvenuto in nigeria a natale a opera di terroristi di daesce o meglio di boko haram mentre in libia insiste avvenire ricatti e torture nei campi di prigionia una vita vale 12 mila e 500 dollari e poi due segnalazioni molto interessanti a mio avviso una intervista bellissima che trovate sulla repubblica a marco cappato sapete assolto dopo per il processo per il suicidio di dj fabo e dice marco cappato non è finita ma ora anche i preti scrivono per dire grazie e l'altra intervista lo prendo sempre la repubblica ma è interessante anche questa e va segnalata al garante per la privacy antonello soro che dice attenzione ci sono 80 app spia per ogni smartphone serve uno scudo digitale il diritto alla privacy sia riconosciuto come universale altrimenti sul piano economico e tecnologico saremo terra di conquista solo un bottino e adesso al volo andiamoci a vedere le previsioni del tempo e poi ci ritroviamo per il telegiornale sì buongiorno questo è lo schema delle precipitazioni previsto per la prima parte della giornata di oggi perché parlo di schema perché vedrete che si ripete si ripete con diverse intensità allora per la prima parte di oggi il versante adriatico il sud la sicilia settentrionale sul versante adriatico queste precipitazioni che sono nevose sui sui rilievi a quote diciamo non bassissime ma certo non non troppo elevate e cominciano a diventare moderate versante tirrenico sardegna nord anche poche nuvole tutto sommato vediamo la seconda parte della della giornata di oggi vedete che si ripete le zone sono sempre quelle sicilia settentrionale dove si intensificano un poco questi questi fenomeni e poi medio basso versante adriatico e in parte anche vedete la calabria quindi diciamo tutto il sud con le schiarite sul versante sul versante tirrenico giornata di domani nel complesso delle delle 24 ore come vedete si intensificano un poco questi questi fenomeni soprattutto sul nord sicilia e sono sempre presenti al sud medio versante adriatico non sul medio versante tirrenico al nord non succede assolutamente niente lì c'è l'alta pressione che si fa sentire e quindi nuvole veramente molto molto poche vediamo anche la giornata di lunedì in cui forse cominciano ad attenuarsi queste queste precipitazioni sul versante adriatico sono ancora piuttosto presenti sulle sulle coste settentrionali della sicilia e poi in parte sulla calabria poi sullo ionio ma a largo qualche nuvola arriva in sardegna insomma è difficile che ci siano piogge sulle altre zone ancora tempo molto stabile le temperature minime di questa mattina il verde si fa piuttosto chiaro come dire non solo siamo sotto i dieci gradi ma siamo anche sotto i cinque molto spesso e a parte qualche proprio zona costiera della della sicilia ma anche anche sulle isole maggiori come vedete le temperature sono piuttosto basse lo stato dei mari di questa mattina di questo di questa giornata ci dà i venti poi insomma sappiamo che tenderanno a intensificarsi vediamo lo stato dei mari che ci dà un livello medio fra mosso e molto mosso perché poi i venti ci sono nord prima nord ovest poi nord poi nord est e localmente sullo ionio al centro dell'adriatico anche le piccole macchie rosse che parlano di un mare localmente agitato se volete prossimo appuntamento subito prima delle 7 e 55 adesso un poco di pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale a più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti